Musica Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di Chrome TV Cremona segue la regione, da lunedì al via la campagna per la vaccinazione anti-influenzale quest'anno particolarmente indicata per i soggetti più a rischio visto che in arrivo un ceppo piuttosto pesante Bibiana Sudati Da lunedì prossimo 28 ottobre in Lombardia sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione anti-influenzale Ad oggi sono 5.185 medici di medicina generale che hanno già prenotato nel sistema informativo di gestione la distribuzione dei vaccini per un totale di 900 vaccini influenzali e oltre 8.000 pneumococcici L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica quale obiettivo primario della vaccinazione anti-influenzale la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave Quest'anno il siero è quadrivalente 4 infatti ceppi in arrivo, 2 particolarmente aggressivi Sulla base di tale indicazione le persone alle quali viene raccomandata ed offerta gratuitamente la vaccinazione sono i soggetti di età pari o superiore ai 65 anni bambini di età superiore ai 6 mesi ragazzi ed adulti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza donne in gravidanza, lungodegenti, medici e personali sanitario di assistenza familiari a contatto con soggetti ad alto rischio Ogni anno l'influenza determina i elevati costi a carico della comunità sia in termini di spesa sanitaria che di costi sociali per le assenze dal lavoro per cure proprie e dei familiari Inoltre il ricorso all'ospedalizzazione per il trattamento di forme influenzali anche non complicate, soprattutto in persone anziane comporta serie ripercussioni sulla recettività dei reparti ospedalieri con possibili disfunzioni operative Lo scorso anno l'influenza ha messo a letto un milione e mezzo di lombardi ma nonostante i numeri l'adesione alla campagna di vaccinazione contro l'influenza di stagione è ancora al palo L'anno scorso appena il 48,2% dei soggetti considerati fragili ha aderito Dopo 38 anni ha chiuso definitivamente i battenti il Nelson Pub di Cremona un pezzo di storia cittadina, il servizio Non è tanto importante sapere dietro a tutto chi ha torto e chi ha ragione se qualcuno ne ha la cosa che colpisce è che dopo 38 anni ha chiuso definitivamente i battenti il Nelson Pub di Cremona 38 anni sono tanti, sono generazioni e di fatto un pezzo di storia cittadina un locale conosciutissimo da sempre a Porta Mosa Gli anni d'oro, quelli 80-90 poi il locale negli ultimi anni ha cominciato a soffrire cambiando 5 gestioni l'ultima quella di Luca Manganelli che 4 anni fa aveva avviato un locale dedicato alla musica dal vivo è lo stesso Manganelli ad annunciare su Facebook ci ha messo il cuore, ci ha provato ma la situazione è precipitata il Nelson era diventato un punto di ritrovo per musicisti e artisti anche di un certo calibro ora le serrande resteranno abbassate mentre la geografia cittadina dei locali cambia ancora inserendo un nuovo punto interrogativo sulla direzione che sta prendendo la situazione generale del centro città uno sportello informativo per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico lo scopo dell'amministrazione cittadina è quello di offrire consulenze e informazioni rispetto alla dipendenza da gioco sentiamo a Cremone è stato attivato uno sportello informativo per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico presso il POES di Corso Vittorio Emanuele II si occuperà anche di orientamento e servizi lo scopo è quello di offrire consulenze e informazioni rispetto alla dipendenza da gioco e ai servizi del territorio a cui rivolgersi sarà aperto a settimana alterna e sino a mercoledì 18 dicembre lo sportello è a disposizione di tutti i cittadini e gli operatori dei servizi che vengono a contatto con problemi legati al disturbo da gioco d'azzardo ed è gestito grazie alla presenza del personale specializzato del servizio dipendenze dell'ASST di Cremona è questa una delle attività realizzate nell'ambito delle progettualità per gli enti locali finanziate da ATS Valpadana il comune di Cremona per dare continuità alle azioni avviate con il progetto denominato gioco sapiens si è attivato per creare una nuova rete di partner pubblici e privati con competenze ed esperienze consolidate questi gli obiettivi sui quali si è lavorato rendere più sistematico l'accesso a strumenti informativi e formativi fare in modo che vi sia una maggiore uniformità negli approcci e un coordinamento ancora più efficace degli interventi nonché rafforzare le competenze degli operatori e la qualità dei servizi la rete di partner coinvolte è così formulato la proposta progettuale gioco sapiens 2.0 è stato ritrovato morto il tassista disperso da ieri sera nell'Alessandrino lo rendono noto fonti dei soccorritori il corpo dell'uomo che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle è stato trovato a Capriata, località di Villa Carolina era invece già stato ritrovato vivo il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si stava ricando in un golf club risultano invece ancora dispersi i due anziani a Mornese e a causa di una frana un edificio a Rossiglione nell'entroterra di Genova è stato evacuato in via precauzionale facendo sfollare i 30 residenti una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti la frana è caduta da un pendio a un monte del palazzo e invaso una strada secondaria colpendo alcune auto in sosta tutte le famiglie residenti nel condominio sono state allontanate l'imperatore Naruhito è stato ufficialmente proclamato il nuovo sovrano del Giappone in una cerimonia solenne al palazzo imperiale di Tokyo alla presenza di circa 2000 ospiti tra cui capi di stato dignitari di 190 nazioni nel suo discorso inaugurale il nuovo sovrano del trono del Crisantemo la più antica monarchia ereditaria esistente al mondo ha detto che si impegnerà a rispettare la Costituzione e adempiere le proprie responsabilità come simbolo dello Stato e l'unità del popolo giapponese proteste di piazze e scontri sono scoppiati in sede le nuove province della Bolivia dopo l'annuncio da parte del Tribunale elettorale di una vittoria al primo turno dell'attuale presidente Evo Morales al potere da 13 anni una folla di sostenitori di Mesa hanno dato fuoco agli uffici elettorali di Sucre la capitale costituzionale della Bolivia e sede della Corte Suprema supporter di Morales e Mesa si sono poi affrontati in strada in diversi punti Luca Modric, centrocampista del Real Madrid è ormai nella storia per almeno due motivi entrambi legati al pallone d'oro dopo essere stato il primo calciatore croato a conquistare il trofeo di France Football l'anno scorso contemporaneamente è divenuto il primo detentore del riconoscimento a non entrare nelle 30 nomination dell'anno successivo ieri sera infatti sono stati svelati i nomi dei calciatori che si contenderanno l'ambito trofeo ma Modric non c'è ci sono invece Leo Messi e Cristiano Ronaldo oltre alla sorpresa Calidu Colibali la notte è trascorsa all'ospedale civile di Brescia per Daniele De Sena che sta rivivendo un incubo quattro anni fa a Rigamonti la rottura di Tibia e Perone per un intervento di Coligliari sera nello stesso stadio l'impatto tremendo con Pulgar a malapena ha monito grande la preoccupazione per quella che finora ufficialmente è stata definita dalla società una forte contusione da valutare si teme infatti un nuovo lungo stop a tutti voi un buon proseguimento di giornata il Tg si chiude qui ma torna come sempre domani alle 13.30